Ben trovati e benvenuti a Vox Populi. Do il benvenuto all'avvocato Gianluca Masi, soggio fondatore dell'Esperta Consulting. Ma chi siete come Esperta Consulting? Dunque, siamo una società che è stata fondata da me, che sono un avvocato e da un commercialista, il dottor Cedrone, che non è qui con noi oggi. È una società che si occupa della verifica, del controllo, dell'esame dei rapporti finanziari, in particolare dei rapporti intercorrenti tra le aziende o anche i privati e le banche. Quindi parliamo di controlli e verifiche di regolarità sui finanziamenti, sui contocorrenti, sui mutui, sui leasing. E andiamo, diciamo, a cercare quelle anomalie che questi rapporti possono presentare, perché spesse volte, ahimè, gli istituti di credito, approfittando un po' dell'ignoranza della gente, vanno oltre quelli che sono i limiti che la legge impone. A proposito della gente, questo programma si chiama Vox Populi. In passato Vox Populi diceva, non so se adesso è vero, questo me lo può dire lei, si diceva che le banche e le assicurazioni avevano una mano lunga e una corta. Quella lunga era per prendere i soldi, quella corta quando li dovevano dare. È ancora così? È ancora così e forse per certi versi la situazione è anche un po' peggiorata, perché chiaramente la crisi economica che ha un po' investito la società, che ci caratterizza ancora tutt'oggi, chiaramente ha reso più fragili sia le aziende che le famiglie, che per far fronte a un tenore di vita che sia sostenibile, spesse volte debbono ricorrere al credito bancario e si espongono quindi a un indebitamento che a volte diventa insostenibile. Finendo in situazioni spesse volte anche tragiche, sappiamo di cronaca, spesse volte si arriva addirittura ai suicidi. Ecco, diciamo che le banche si possono controllare a loro volta. Loro controllano noi, ma noi possiamo controllare loro, perché la normativa c'è, è fatta bene, e che spesse volte viene un po' così ignorata appositamente perché gli interessi delle banche, quindi non parlo di interessi sul denaro, gli interessi delle banche vanno oltre quelle che è il rispetto della norma. Il paradosso è anche questo, che la Banca d'Italia, che è l'istituto di controllo, è di proprietà delle banche stesse. Bravissimo, sì, il discorso è proprio questo. La Banca d'Italia da qualche anno è sostanzialmente privatizzata e è partecipata dai principali istituti di credito del nostro territorio. Questo significa che il controllore e il controllato, di fatto, sono la stessa persona, lo stesso soggetto. Naturalmente questo fa sì che la Banca d'Italia, che è l'organo di controllo, tenda evidentemente a fare più gli interessi delle banche che non dei cittadini o delle aziende, perché fa gli interessi propri. Qual è l'attenzione maggiore che deve avere il cliente quando apre un conto corrente? Se ci fatti chiari, amici, sia lunga. Sì, allora, diciamo, dobbiamo dire questo, che negli ultimissimi anni, quindi diciamo dal 2010-2012 in poi, le banche che sono state un po', adesso, sono tuttora, ma hanno iniziato ad essere un po' nell'occhio del ciclone, quindi c'è stato un contenzioso bancario che è andato via via aumentando, con diverse, tantissime sentenze, diciamo, negative per loro, adesso sono molto più attente, più rispettose di quelli che sono i cavilli normativi, che poi erano quelli dove spesse volte andavano a giocare per poter lucrare il più possibile nei rapporti con i propri clienti. Quindi il consiglio che noi diamo è aprire il conto corrente, voglio dire, è impossibile leggere tutte e controllare tutte le clausole che la banca impone, però ecco, magari farlo controllare da chi lo sa leggere, perché purtroppo i contratti, soprattutto i contratti con le banche, sono difficili da leggere se non li si dà leggere. Magari le società che sono organizzate riescono a controllare, ma il cittadino, l'artigiano, il commerciante, il singolo? No, il problema è proprio questo, che le banche hanno approfittato della, ripeto, dell'ignoranza intesa come ignoranza della legge bancaria, quindi anche un imprenditore che è bravissimo nel suo campo può trovarsi in difficoltà nel leggere proprio alcune clausole o condizioni che la banca impone e spesse volte ancora si va un po' a fiducia, dice vabbè, io conosco il direttore della banca, ma il direttore della banca purtroppo ha poteri molto molto limitati, ormai il controllo avviene nei piani alti, quindi vengono imposte determinate condizioni, determinate situazioni e quindi poi l'imprenditore o il privato quando ha delle difficoltà a quel punto inizia a farsi le domande e deve per forza rivolgersi a qualcuno che in qualche modo può aiutarlo. Negli anni passati si parlava molto di anatocismo, gli interessi sugli interessi, è un fenomeno debellato? Allora, diciamo questo, diciamo che l'anatocismo è un fenomeno che ha caratterizzato gli anni che vanno fino al 2014, perché poi è intervenuto il legislatore su solleciti anche da parte della Banca Centrale Europea, quindi degli organismi sovranazionali, è intervenuto spingendo e sollecitando una legge ad hoc che impedisse questa pratica che si chiama capitalizzazione, quindi interessi sugli interessi. E di fatto con la legge di stabilità del 2013, quindi a partire dal 1 gennaio 2014, l'analogismo è diventato illegittimo, quindi le banche non possono più farlo. Era stata fatta poi una sorta di norma cuscinetto che permetteva comunque ancora alle banche di avere margini per farlo, dal 2016, quindi dal 1 gennaio 2016, è assolutamente illegittimo, tant'è che molti dei telespettatori avranno ricevuto negli ultimi mesi delle comunicazioni dalla banca in cui si invitava a firmare una dichiarazione con la quale la banca si impegnava a liquidare gli interessi nel mese di marzo dell'anno successivo, quindi non è più trimestralmente, ma è a fine anno, nel primo trimestre dell'anno successivo vengono liquidati gli interessi precedenti. Fino a questa data, l'analogismo è stato un fenomeno la fonte di maggior lucro per le banche, perché chiaramente oltre ad applicare interessi che normalmente erano altissimi, questi interessi producevano altri interessi, altrettanto alti, quindi si creava una moltiplicazione di queste voci che a fine anno arrivavano ad essere davvero pesanti, poi chiaramente proporzionalmente al tasso di interesse applicato, al singolo caso, è chiaro che non possiamo generalizzare, ma la pratica era effettuata su tutti, dal singolo cittadino all'azienda grande, quindi con numeri importanti. Ci sono magari attività commerciali, artigiani, commercianti, che le cose non sono andate bene, magari hanno i suoi battenti, e queste persone possono un pochino, se vogliono vedere che cosa è successo in passato, lo possono fare? Sì, allora diciamo innanzitutto che nella nostra esperienza abbiamo incontrato tanti, tanti imprenditori o artigiani, comunque autonomi, che hanno dovuto chiudere spesse volte per colpare le banche, perché le banche spesse volte, dopo aver messo a disposizione i suoi home con fidi più o meno ampi, hanno all'improvviso chiuso i rubinetti e detto, devi rientrare, mi devi rientrare tutto, chiaramente creando problemi di liquidità e difficoltà. Chi ha dovuto chiudere l'attività o magari anche soltanto il conto corrente, può tranquillamente fare una verifica, l'importante è che non siano decorsi dieci anni dal momento in cui è stato chiuso il rapporto, perché altrimenti qualsiasi diritto di ripetizione, quindi di recupero degli interessi o delle somme illegittimamente pagate, sarebbe prescritto. Quindi, se non sono trascorsi dieci anni da quando il conto corrente, il rapporto bancario è stato chiuso, si può andare a recuperare anche oltre il trentennio, perché voglio dire, assolutamente sì, l'importante è che non siano corsi dieci anni dalla chiusura del rapporto. E come esperienza lavorativa avete dei casi così retrodatati, per dire? Assolutamente sì, abbiamo dei casi particolari. Un esempio eclatante, per esempio. Sì, un esempio eclatante è un'azienda nata nel 1978 e che ha rapporti con una banca dall'82 e, fortuna sua, ha conservato tutti gli estratti conti che altrimenti non avremmo mai potuto recuperare. Chiaramente la conservazione degli estratti conti è l'elemento fondamentale, perché da lì si possono andare a verificare le irregolarità, gli addebiti illegittimi e tutto ciò che la banca ci ha ci ha chiesto in pagamento e che magari non era dovuto. Ora, mentre la banca è tenuta a conservare gli estratti conti, questo obbligo di conservazione è limitato al periodo di dieci anni. Quindi, se oggi noi chiediamo gli estratti conti del mio conto corrente, la banca mi darà dal 2008, siamo nel 2018, quindi da marzo 2008 ad oggi. Tutti quelli pregressi non ha più obbligo di conservazione e non ce li darà mai. Quindi non avremo la possibilità di andare a controllare. Molte aziende che erano in contabilità ordinaria e quindi erano obbligate a tenere gli estratti conti in contabilità, tutti conservati anno per anno, chiaramente ce li hanno, ce li hanno messi a disposizione e ti posso assicurare che sono venuti fuori numeri veramente, veramente importanti. Parliamo di centinaia di migliaia di euro. Anche su degli scoperti di conto corrente? Soprattutto, soprattutto su degli scoperti di conto corrente. E per quanto riguarda i mutui, i leasing, magari chi ha acquistato la casa, ha fatto i finanziamenti? Sì, allora anche lì c'è da fare un discorso, bisogna diciamo distinguere due tipi di discorso. Il finanziamento che tecnicamente viene chiamato chirografario, cioè quello in cui la banca non impone l'ipoteca sull'immobile. Quindi è un finanziamento che viene fatto a garanzia personale. Quelli a breve, magari. Quelli a breve, alle aziende li fanno anche un po' più lunghi, però diciamo che ai privati, facciamo un esempio, i finanziamenti che si fanno per comprare la macchina, per comprare i mobili per casa, quelli da 15.000, 20.000, 25.000, quelli cui per l'appunto basta la firma, la busta paga e non c'è una garanzia reale, cosiddetta che sarebbe l'ipotecna. Quelli là sono particolarmente colpiti da un difetto che non è usura, non è analogismo, perché l'analogismo sui finanziamenti non esiste, esiste soltanto eventualmente l'usura, che è una violazione della norma sulla trasparenza, che il testo unico bancario impone alle banche le quali quando pubblicizzano i propri prodotti finanziari debbono con chiarezza indicare quali sono le condizioni. Le banche fanno un giochetto abbastanza di frequente, indicano dei tassi che sono diversi da quelli reali, più bassi, ingannando chiaramente il consumatore, quindi diciamo convincendolo a sottoscrivere un finanziamento che non è così conveniente come sembra. In questo caso abbiamo trovato il supporto fortunatamente proprio dell'organismo della Banca d'Italia che è l'arbitro bancario e finanziario, che è un organismo interno della Banca d'Italia che è stato creato per risolvere senza ricorrere al giudice le querelle che possono nascere tra consumatore e banca. E vi debbo dire che i finanziamenti al consumo cosiddetti tecnicamente, quindi questi che dicevamo da 20, 25, 30, fino a 70 mila euro sono chiamati finanziamenti al consumo, sono nel 98% dei casi irregolari e l'arbitro bancario e finanziario ne accerta sempre di irregolarità, soprattutto quelli stipulati nel periodo tra il 2007 e il 2011, ah no, anche 13, fino al 2013. E i mutui ipotecari? I mutui ipotecari sono dei contratti particolari in cui la normativa sulla trasparenza che dicevamo adesso non a cui non è applicabile la normativa sulla trasparenza. Quindi sui mutui ipotecari noi andiamo a controllare la pattuizione dei tassi. Quindi nel momento in cui si stipula il mutuo la banca ci dirà che il tasso corrispettivo, quindi quello ordinario che si paga sulle rate ordinarie, è individuato in una certa misura e poi c'è un tasso di mora che è quello che viene applicato nel momento in cui non si rispettano le scadenze. Sui mutui quindi di questo genere noi andiamo a fare una verifica sull'ammontare di quei tassi e li andiamo a confrontare con quello che è il cosiddetto tasso soglia, cioè che è il tasso che viene per legge trimestralmente rilevato oltre il quale c'è usura. Quindi quel tasso soglia che viene pubblicato trimestralmente dalla Banca d'Italia attraverso dei decreti ministeriali è il limite massimo applicabile a quel tipo di contratto. Se la Banca ha patuito un interesse sia esso o un rispettivo che dimora superiore a quella soglia di fatto ci ha usurato e quindi possiamo andare a impugnare il contratto che cosa significa impugnare il contratto? Annullare tutti gli interessi. Quindi se la Banca c'era lo 100 noi siamo obbligati a restituire 100 perché chiaramente quella è una somma erogata quindi è della Banca. Ma il contratto diventa si dice a titolo gratuito quindi ridò i soldi che mi hai dato senza pagarti il capitale. E l'esperienza che vi dice in questo caso? L'esperienza ci dice che sui mutui dipende molto c'è una giurisprudenza molto indecisa diciamo così. Mentre la Cassazione che dovrebbe essere l'organo più condizionante i giudici di primo grado e di secondo grado con le sue pronunce continua costantemente a riconoscere che i tassi di interesse nei mutui siano essi corrispettivi siano essi di mora devono essere sotto la soglia dell'usura altrimenti il mutuo è gratuito purtroppo abbiamo dei tribunali in cui ancora i giudici ritengono che il tasso di mora possa essere anche usurario. Non si comprende il perché si arriva a pensare che siano giudici totalmente pro banca perché ahimè c'è una giurisprudenza filobancaria in alcuni tribunali soprattutto quello principale su cui lavoriamo noi doveva essere la società i giudici sono assolutamente pro banca e quindi anche di fronte a un tasso clamorosamente usurario quindi superiore al tasso soglia se è un tasso di mora per i giudici è irrilevante quindi siamo costetti poi ad andare in appello e magari arrivare in Cassazione. E per i conti correnti lei ha detto che sul credito a consumo le anomalie sono alte si arrivano a 90% le anomalie sono molto molto alte sui conti correnti sui conti correnti sui conti correnti quando il conto è affidato quindi ha uno scoperto autorizzato uno scoperto sì e questo 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 scoperto viene utilizzato con una certa costanza quindi chiaramente producendo interessi passivi perché altrimenti se non ci fosse uno scoperto autorizzato voglio dire non ci sarebbero interessi passivi tranne per quel momento in cui qualcuno magari va fuori va sotto diciamo va in saldo negativo ma la banca ti fa rientrare subito se non hai diciamo l'autorizzazione a restare nel fido nell'affidamento in questi conti correnti c'è sempre qualcosa da recuperare va visto caso per caso perché chiaramente le condizioni delle banche gli interessi cambiano di volta in volta a seconda del soggetto che è titolare del conto corrente se è una società se è un privato se è un privato a rischio se invece è un privato che ha una solidità patrimoniale quindi gli interessi sono più bassi insomma va visto va controllato però una cosa è certa ci sono sempre delle anomalie che possono essere più o meno rilevanti ma assolutamente sì sono più virtuose le grosse banche o quelle locali quelle cooperative allora sono più virtuose quelle locali assolutamente le grosse banche paradossalmente forse perché lavorano su grandi numeri quindi riescono ancor più a a nascondere diciamo le magagne sono più organizzate le grosse banche tranne una io non faccio nomi naturalmente però tranne una tra le più grandi banche sono quelle che applicano le condizioni peggiori e quelle su cui troviamo le anomalie più gravi un'ultima cosa Equitalia è un po' il il tasto dolente è il tasto dolente per Equitalia voi vi interessate che cosa si può dire? la nostra società che offre diciamo una consulenza diciamo a 360 gradi quindi chiunque si trovi in difficoltà sia nei confronti di Equitalia sia nei confronti delle banche ha un un settore che si occupa per l'appunto della verifica anche qui delle irregolarità che Equitalia spesse volte pone in essere perché Equitalia se ha dieci cartelle nei confronti di un soggetto notifica dieci cartelle e agisce per dieci cartelle ma magari di quelle dieci cartelle quattro sono prescritte però Equitalia le mette comunque nel tanto per non sbagliare tanto per non sbagliare poi purtroppo in Italia vige questo questo questa inversione dell'onere della prova cioè io agisco e ti chiedo tutto poi se secondo te qualcosa non è dovuto sei tu che mi devi fare causa in verità dovrebbe funzionare al contrario prima di agire tu dovresti essere dovresti diciamo aver controllato la legittimità della tua richiesta in conclusione che consiglio possiamo dare a chi ci ascolta al popolo proprio? in conclusione sì io do questo consiglio spassionato chiaramente parlo a nome della mia società ma naturalmente non siamo i soli sul mercato ci mancherebbe altro però una cosa è certa controllare i conti controllare i finanziamenti controllare i mutui controllare leasing quindi i rapporti finanziari è un bene perché dico sempre la banca ci controlla quando ci deve mettere a disposizione dei soldi controlla se abbiamo qualche volta pagare una rara in ritardo se abbiamo qualche familiare che è moroso se abbiamo qualsiasi macchia sul nostro curriculum finanziario quindi noi possiamo fare altrettanto la legge esiste si può applicare si vince contro le banche si vince vi posso assicurare che si vince a volte anche senza necessariamente dover ricorrere al giudice perché spesso le banche sono talmente consapevoli sono molte le transazioni di quello che fanno che diciamo che sono più le posizioni che chiudiamo con delle transazioni stragiudiziali che non in giudizio perché le banche chiaramente hanno paura delle sentenze spavorevoli perché le sentenze poi vengono pubblicate vanno su internet e quindi chiaramente poi diventano di dominio pubblico e convincono quelli che sono insicuri ad agire e quindi le banche ci fanno fare delle transazioni con obbligo di riservatezza quindi non possiamo diciamo dare ecco al popolo notizie su questo però vi posso garantire che le transazioni sono tante e sono tanti clienti che hanno preso soldi dalle banche c'è un caso particolare in questa esperienza fatta così a 360 gradi c'è un caso particolare c'è un caso particolare di un'azienda che praticamente è venuta da noi disperata perché la banca aveva deciso di chiudere gli conti di fargli rientrare dei fidi che aveva per circa 120 mila euro e gli aveva già ben predisposto impacchettato un bel piano di rientro da 2500 100 euro al mese per i prossimi totta anni e loro erano andati per firmare poi per un motivo particolare non hanno firmato prima di tornare sono noi nella disperazione l'ultima spiaggia così abbiamo preso un po' di tempo con la banca fatte delle comunicazioni ad hoc per guadagnare tempo e controllati i conti alla fine i 120 che doveva dare la banca sono diventati i 120 che abbiamo preso noi quindi erano 250 250 fuori con una transazione magari ti ha fatto una bellissima cena con questo cliente beh sì il cliente chiaramente ma sto molto molto contento non c'è dubbio grazie avvocato alla prossima grazie a te Michele il CIF centro italiano femminile del Morise diretto dalla dinamica Maria Antonietta Mariani ha dato appuntamento nella sala convegni del santuario di Castelpetroso per la presentazione del libro di Gabriele Ciamprani dialogo sulla fede riflessioni sulla vita e sulla realtà è la testimonianza di conversione dell'autore sotto forma di dialogo dall'angelo custode alla Vergine Maria dal peccato originale alla demonologia per ogni argomento trattato propone uno spunto su cui riflettere è un invito a coinvolgere il lettore ad un mero e proprio dialogo sulla fede abbiamo raccolto alcune testimonianze che vi proponiamo partendo da quel Frappio Maria Ciampi che nella diocesi di Serna Venafro è un punto di riferimento anche se lui bonariamente si schernisce in mancanza di cavalli spazio anche agli asini Frappio l'ultima volta che ci siamo visti era perché un giovane una volta che ha conosciuto te diciamo gli sono rischiarato un pochino le idee ha iniziato un percorso che lo sta portando al sacerdosio ci vediamo oggi è più o meno un caso analogo un giovane e ha detto io durante la mia vita mi è capitato il giovane di incontrare un frate per me è un santo frate si chiama Frappio da una confessione è successo che mi si è aperto davanti l'orizzonte e oggi presenta un libro sulla fede ma chi è questo giovane? ecco si si è stato proprio così io per un addio incidenza sono andato allo studio del papà che è figlio di un dentista Gabriele Gianfrani scrive proprio questo libro sulla fede ci siamo incontrati abbiamo avuto un bellissimo dialogo lui era giovanissimo 17 anni 16-17 anni abbiamo avuto proprio un dialogo sulla fede proprio un discorso profondo sulla fede lui ha maturato poi questa decisione di volere la grazia del sacramento della riconciliazione della confessione abbiamo fatto un bellissimo incontro anche confessionale proprio del sacramento e dopo veramente si è intessuto un rapporto molto profondo ancora attualmente ci confrontiamo su questi temi lui adesso sta studiando la regina Apostolorum proprio per prendere la laurea in scienze religiose e quindi si è è maturato dentro di lui proprio con una bellezza questo desiderio di approfondire la fede su cui poi ha imperniato tutto da solito un bravissimo musicista suonava già la chitarra io veramente convinci pure il papà che gli voleva comprare una chitarra di serie B dico ma dai insomma per piacere questo ci tiene è una cosa bella e così realmente insomma questo ha ha creato una sua esperienza molto molto bella e profonda di fede hai avuto modo di vedere questo libro che lui ha scritto si si io l'ho si si io l'ho intervisto anche già prima che lo scrivesse si è proprio diciamo è un modo di dialogo proprio per essere un lui è giovane ancora adesso è giovane insomma è proprio per intessere un dialogo tra giovani per porsi delle domande fondamentali proprio sulla vita e quindi anche sulla fede proprio in questi termini insomma ho visto che parla molto anche del maligno come difendersi dal maligno e si perché lui poi io sai che sono esorcista adesso nella diocesi lui anche in questo è cresciuto con me perché viene ai miei momenti di preghiera ha avuto modo anche di sperimentare proprio nei fatti queste persone e quindi questo gli ha dato poi lui ha approfondito molto con diversi libri leggendo anche diversi libri ha avuto molti dialoghi anche a Roma con persone proprio su questi temi e quindi ha intessuto anche in questo libro parla anche di questa realtà che con cui si è a contatto continuamente insomma e mette in guardia anche da sedute così spiritiche sì certo avendo lui fatto un'esperienza seria in questo ambito è chiaro che avvisa le persone facendo capire guardate che andare in cerca di magie di sregunerie di situazioni varie sedute spiritiche anche fatte per scherzo tutte queste guardate che sono le conseguenze di tutto questo non è un fatto ideale è un fatto reale che io come giovane perché è un apporto importantissimo per i giovani entrare in dialogo nella fede con un altro giovane insomma che non è un sacerdote è un laico impegnato un giovane impegnato ma che vive la fede con una bellezza con uno splendore insomma parla anche della Madonna delle apparizioni dei punti dei posti dove è apparsa la Madonna forse non è un caso che il libro lo presenta qui a Santuale di Castelpetroso eh sì anche dici beh non è un caso anche perché lui diciamo è venuto diverse volte anche con me a Meggiugorie quindi ha fatto anche un'esperienza forte in questi pellegrinaggi in queste apparizioni mariali e poi le approfondite personalmente lui ha letto molto sta leggendo molto e veniamo proprio come hai detto in un luogo dove tutto ciò che si vede lo splendore di questo luogo è venuto fuori da un'apparizione che qua io avevo quando sono arrivato in questa dioce si no per un addio incidenza ho trovato un libro che mi faceva vedere che qua ci sono state 90 anni di apparizioni cioè c'è stata l'ultima una ultima apparizione ci dava questo certo negli anni 60 1960 qualcosa del genere dall'inizio delle apparizioni quindi un luogo dove il vescovo stesso del posto ha visto tutto questo quindi è chiaro che è un addio incidenza perfetta anche questa insomma a chi ci ascolta che messaggio vogliamo mandare da Castelpetroso da parte di Fra Pio ecco guarda Michele io questo messaggio lo vorrei dare proprio in particolare ai giovani che sono un buona spina nel mio cuore ti dico sinceramente perché ho visto un abbandono proprio della fede e quindi io desidererei proprio se non altro di entrare in un dialogo per porsi queste domande che questo libro suscita proprio perché non è vero che la fede sia un peso è un valore aggiunto è una strada sicura per la gioia è una felicità non è quella fede oppressiva si nota anche in questo libro anche attraverso un giovane è quella fede invece che riempie la vita che dà il senso è la bellezza della vita Don Giuliano Lillia a lei è l'onore e l'onore di presentare questo lavoro Dialogo sulla fede immagino che chiaramente per presentarlo è già il suo già lo conosci si lo conosco Dialogo sulla fede perché questo libro vuole dimostrare che la fede non significa assolutamente un credere irrazionale assurdo no significa confermare la legge della natura che è la ragione il Vangelo non esclude il Vangelo include come la stessa laicità la laicità autentica non esclude nulla non ha dogmi e include tutto ciò che è razionale quindi questo libro vuole far comprendere che vi sono due ordini vi è l'ordine rivelato biblico cristiano e vi è l'ordine della natura l'ordine rivelato le sacre scritture l'ordine della natura le leggi eterne quindi la Chiesa include anche la legge morale naturale la difende fa un certo effetto vedere che apporsi questi temi è un giovane quando oggi i giovani mi sembra che fuggono perfetto ha centrato benissimo l'argomento con Gabriele Cianfrani cognome Cianfrani sì ci troviamo di fronte a un giovane che veramente ha preso sul serio il rapporto tra Chiesa e società perché questo rapporto da ormai sono circa due tre secoli che è stato più che interrotto è stato spezzato invece Gabriele Cianfrani con questo libro vuole far comprendere come Chiesa e società non si escludano ma si completino perché la Chiesa appunto va a qualsiasi uomo e infatti ha trovato tanti scienziati che sono cattolici tantissimi scienziati tipo Lavoisier tipo lo stesso Galilei era cattolico Guglielmo Marconi e così via dobbiamo dare atto che questo giovane si è reso conto che qualcosa non andava studiando i libri anticlericali si è accorto che sì le parole erano belle però poi quando andava i contenuti a scavare dentro si accorgeva che le cose non stavano così lui ricordo che mi parla sempre delle maree Galilei lui dice sempre quando ho visto il processo a Galilei ho notato che Galilei apportava arrecava come prova le maree ma i gesuiti della specola in quel 1622 spiegavano che le maree non sono dovute alla rotazione della terra attorno al sole ma sono dovute dall'attrazione della luna sono lunari non sono solari e poi lui va a scavare a scavare e scopre e scopre che la dimostrazione eliocentrica cioè della rotazione della terra intorno al sole e al sole è avvenuta scientificamente solo col pentolo di Fougot nel Pantheon di Parigi niente meno nel 1852 230 anni dopo il processo a Galilei quindi lui essendosi reso conto che bisogna non bisogna seguire ciò che viene detto bisogna studiare analizzare confrontare è rimasto scioccato ha detto ma allora aveva ragione la chiesa il processo a Galilei ho detto si Gabriele tu l'hai visto il pendolo di Fougot sta lì basta andare su Wikipedia e trovarlo il pendolo di Fougot Fougot dimostrò è lo scienziato che ha dimostrato la rotazione della terra a Galilei vanno tantissime altre scoperte per carità perché poi l'elocentismo è di Niccolò Copernico che era un sacerdote quello che dice Gabriele anche Niccolò Copernico era un sacerdote quindi lui si è reso conto che tantissimi scienziati sono cattolici e sono tipo Alessandro Volta e sono anche sacerdoti Giuseppe Mercalli Giacomo Bressadola Ludovico Antonio Muratori Cesare Baronio di Sora le scienze storiche e così via lei ha fatto riferimento alla chiesa e alla società quella società di oggi che così dietro certe apparenze così belle così accattivanti nel libro si dice che c'è molta presenza del maligno si purtroppo c'è basta vedere i segni i segni tutta la simbolica faccio un esempio banale noi vediamo gli uomini dello spettacolo solo che fanno così quando salutano 666 il numero della besta dell'apocalisse quindi Gabriele anche qui ha ragione vi è molta presenza una enorme simbologia massonica che passa inosservata ma per gli addetti ai lavori per ragazzi che si documentano come lui i conti tornano e ripeto ha fatto un lavoro enorme ho avuto modo di vedere di leggere il libro un lavoro veramente enorme un confronto impegnativo che l'ha portato l'ha portato a riconoscere che la Chiesa Cattolica non è contro la scienza da dove vogliamo iniziare perché Castelpetroso allora perché Castelpetroso perché prima di tutto perché è un posto a cui sono molto legato di fatti questo legame nasce in un tempo anche abbastanza remoto perché se ricordo bene da più o meno quanto avevo sei o sette anni venivo sempre qui con mia zia mia zia Mimina la chiamavano tutti si chiamava Domenica e mio zio Leonildo e loro erano molto devoti a questo luogo soprattutto alla Vergine Addolorata che poi qui apparve proprio nel 1888 e si mostrò come la Vergine Addolorata e loro erano molto legati a questo posto e quindi penso che questo legame in gran parte me lo abbiano trasmesso loro e poi è andato con il tempo sempre più aumentando fino a quando poi ho deciso effettivamente di approfondire quella che è stata poi l'evento di Castelpetroso che gode anche di una certa unicità rispetto ad altre apparizioni perché appunto l'apparizione qui vide il Vescovo come vecchente e quindi al momento nella storia Monsignor Francesco Magarone Palmieri quando nel 26 di settembre 1888 vide la Vergine Addolorata con ai piedi il corpo del figlio morto deposto dalla croce e quell'evento segnò appunto una unicità perché al momento in base ad alcune ricerche molto molto approfondite il Vescovo Monsignor Palmieri risulta essere l'unico Vescovo vecchente della storia perché questo libro? è un libro che il motivo per cui l'ho scritto è una testimonianza è una testimonianza posta sotto riflessione nel senso che io ho iniziato il mio percorso circa 14-15 anni fa quando conobbi Fra Pio Maria Ciampi il quale con mia somma felicità poi divenne subito mio padre spirituale ovviamente non cambiò tutto in maniera ecco repentina molto molto rapidamente ma ci volle ovviamente anche un po' di tempo per cui le cose cambiarono gradualmente come è giusto che sia voi per qualsiasi cosa perché se le cose iniziano subito magari anche subito finiscono e niente quindi quando conobbi Fra Pio e ovviamente rimasi rimasi ecco molto colpito molto colpito sia per la sua figura insomma e poi era una cosa molto molto interessante che lui mi ha mi ha trasmesso questa questa bellezza della fede la bellezza della fede che non è una fede antica non è una fede che risale a circa duemila anni fa ma è una fede fresca una fede che la si può toccare anche con mano volendo questo ovviamente se ci si raccoglie se si immerge anche nell'accoglimento nella preghiera altrimenti ovviamente non non penso si possa riuscire in questo e il libro appunto è nato per questa testimonianza per questa testimonianza che è scaturita dal mio percorso di fede però non è una autobiografia e è una testimonianza che verte di più su temi da un punto di vista oggettivo per cui io espongo le mie riflessioni anche su determinati argomenti di fede e invito anche il lettore o tutti coloro insomma che si trovano di fronte al mondo della fede a riflettere su che cosa effettivamente sia la fede e soprattutto sul fatto che la fede è possibile viverla parli del bene parli del male parli molto del marigno parli della madonna sono tanti gli argomenti sì sono diversi gli argomenti tra cui parlo anche dell'angelo custode che pare sia un argomento che oggi viene molto deriso perché si parla dell'angelo custode come se fosse un angioletto un qualcuno che raccontavano nelle storie di infantili così ma finisce là in realtà l'angelo custode è un qualcuno è un essere personale ben preciso ed è un essere molto molto serio di fatti le vite poi ma già nella scrittura si trovano tracce dell'angelo custode e anche implicite a volte più esplicite però ci sono tracce ben precise poi la vita di molti mistici testimonia di come l'angelo custode sia continuamente presente nella vita di ognuno di noi anche perché potrà sembrare assurdo però in questo momento c'è il mio angelo custode questo può sembrare strano affermarlo soprattutto ai tempi di oggi però è giusto anche rendere ragione della propria speranza è quello che io faccio per la Vergine Maria la Vergine Maria perché è una figura dalla quale non si può prescindere anche come disse Paolo VI il grande Papa di cui presto noi avremo l'onore di vederlo canonizzato chi è cristiano è anche mariano non si può essere cristiani se non si passa per Maria Maria quindi è quella figura dalla quale non è possibile a mio parere prescindere da tutto il demonio poi il demonio è una figura che non viene quasi mai menzionata però in realtà il demonio fa parte anche del mistero perché c'è come c'è il mistero del male così vi è anche il mistero il mistero del bene così vi è anche il mistero del male del resto parlare del demonio non è superfluo perché e questo è un altro tema che poi inserisco nel libro è che molte volte non se ne parla oppure si viene anche derisi giungendo anche a conclusioni che molte volte non sono neanche tanto corrette soprattutto anche per mancanza di riflessione perché tutto parte dal peccato originale tutto ciò anche noi adesso ci apprestiamo ci prepariamo a festeggiare la Pasqua però se noi prescindiamo dal peccato originale non ha senso neanche la Pasqua perché la Pasqua in fin dei conti che cos'è se non il sacrificio espiatorio di Cristo sulla croce però per il sacrificio occorre che ci sia stato un qualcosa che abbia condotto Dio ad incarnarsi la seconda persona ad incarnarsi nella persona di Gesù di Nazareth e di appunto espiare questa colpa che è la colpa di origine ecco il maligno si manifesta sotto diverse forme fai riferimento agli spiritismi alle sedute spiritiche proprio che è diventato quasi uno sport che sono pericolosissimi sì il maligno si manifesta in tanti modi può travestirsi anche di angelo di luce San Paolo ci mette anche in guardia di questo e il maligno soprattutto oggi in realtà è attuale è molto attuale ovviamente non bisogna esagerare perché lui il demonio ha un posto ben preciso insomma quindi non bisogna né sopravvalutarlo però neanche sottovalutarlo occorre considerarlo in quel posto per quel posto che lui occupa e oggi si manifesta in tante forme tante di quelle forme che molte volte come lei ha ricordato vengono scambiate come qualcosa di innocuo di innocente per cui sedute spiritiche magia tutto ciò che poi rientra nell'occultismo la divinazione la chiromanzia la cartomanzia anche l'oroscopo non è proprio cristiano ecco perché l'oroscopo fa riferimento agli astri anche alle costellazioni che però in realtà costellazioni in sé non hanno fondamento perché non è che c'è il leone c'è la bilancia insomma sono delle illusioni ottiche perché le stelle stanno a distanza di chilometri e chilometri di distanza l'una dall'altra per cui il maligno molte volte si manifesta con mezzi che che sembrano non producano alcuna conseguenza ma è appunto quella l'astuzia perché se uno venisse a conoscenza che queste cose producono delle conseguenze dalle quali poi è molto difficile anche uscirne se non ci si avvale di una guida spirituale anche preparata ecco sono delle conseguenze che uno potrebbe rischiare di portarsele con sé questo libro è diretto a tutti ma in modo particolare questo libro è diretto a tutti a chiunque infatti io non l'ho scritto soltanto per cristiani cattolici l'ho scritto per chiunque ed è un libro che appunto mira a riflettere soprattutto da un punto di vista oggettivo per cui quando si affronta una realtà oggettiva è sempre rivolta a tutti io l'ho fatto apposta insomma per cui non ho raccontato dei fatti che potevo anche raccontare della mia vita privata però se mai ci fosse un'occasione futura se mai Dio voglia che questo cammino continui anche con i libri magari potrò inserire anche qualcosa di privato che mi è accaduto però ho preferito iniziare questa mia testimonianza pubblica riflettendo perché io penso che oggi uno dei problemi fondamentali è la mancanza di tempo per la riflessione parlando con fra Pio le ho ricordato che ultimamente mi è capitato di incontrare un giovane che si era rivolto a lui si era confessato era diventato un soffiro spirituale ed oggi è alle soglie del sacerdosio non è che anche Gabriele prenderà questa strada no penso di no sinceramente in me vi è stato un discernimento ecco se questo posso dirlo lo dico questo posso dirlo vi è stato un discernimento alla fine del quale ho ho deciso di continuare per la vita laicale per cui non penso che ci sarà un sacerdosio a segnare la mia vita ecco sono sacerdote per battesimo certo però non penso che ci sia l'ordine signor Carmine ma questo figlio sta affrontando un tema così importante che riguarda non solo i giovani riguarda un po' tutta l'umanità domanda tutta l'umanità esatto queste sono delle parole veramente eccezionali ed è la realtà è la verità e questo si discuteva anche io come genitore a volte mi meraviglio che nel contesto attuale di questa società lui riesca a concepire queste cose a riflettere su queste cose però io penso che il merito oltre che il suo ma soprattutto è di Frappio Frappio lo ha istradato verso un concetto della vita e della religione che è sbalorditivo e oggi queste cose mancano nella nostra società a casa che giovane è a casa è un giovane studioso a volte lui quando suona la chitarra è una cosa impressionante poi legge sempre ultimamente legge sempre sia cultura una continuazione io spesso dico ma guarda tu sei un anacronista e lui mi dice no no ma io penso anche a quella a tutto quanto penso e che dire cioè se a 27 anni ha fatto un libro del genere che quando ha letto la casa editrice la Tau non hanno cambiato una virgola hanno detto sì lo pubblichiamo e basta e l'hanno fatto l'hanno pubblicato ora oggi farà una presentazione di questo libro e parlerà di questi congetti io sinceramente non lo so e sono in ansia per sentire e ascoltare che cosa dirà immagino che vive in una famiglia dove la religione è presente e la religione sì e diciamo di sì però dovrei dire che è lui che trascina noi non noi lui poi se devo far mente locale io mi ricordo mio padre mio padre era un uomo eccezionale da questo punto di vista era la religione cristiana fatta uomo e quindi può darsi che avrà peso spunto da mio padre ma si chiamava Gabriele Gabriele si chiamava sì i conti tornano i conti tornano è bravo esatto sono convinto che i conti tornano non tutto è per caso ma c'è un inter che chissà se lo dirà lui sono in ansia di ascoltarlo fra più direbbe un addio incidenza fra più direbbe un addio incidenza sì sì è un addio incidenza sì in chiusura un grazie ed un bravo a Gabriele Gianfrani ed un invito a tutti voi a leggere questo libro Dialogo sulla fede della TAV editrice non sarà tempo perso ve lo assicuro grazie a tutti Grazie a tutti. Il 15 marzo scorso, come ogni anno, Venafro ha reso maggio, ha ricordato, i propri figli caduti a seguito di un bombardamento fuoco amico, il 15 marzo del 1944. I bombardamenti furono fatti dai tedeschi, però a perire, durante quel periodo non ci furono solo quei bombardamenti, ma ci sono stati anche altri casi. Parliamo di quel periodo e di queste vittime con due Venafrani d'Oc, Mario Verrecchia, politico di lungo corso, e Tonino Atella, giornalista di lungo corso. Inizierei proprio da te, Tonino. Che cosa è successo in quel periodo? Venafro ebbe un sacrificio enorme in mano di vite umane, oltre che come città. La città commemora da sempre le 140 vittime del 15 marzo 1944. Lo fa in maniera ufficiale, con partecipazione popolare, gli studenti, le autorità, i rappresentanti militari. Tutta la città si stringe in quel giorno per ricordare, per commemorare, per sottolineare il sacrificio veramente immane di quel triste 15 marzo di tanti anni or sono. Però l'anno prima Venafro aveva avuto altre vittime, altri bombardamenti, più esattamente nell'ottobre 1943. La città subì diversi cannoneggiamenti e purtroppo sempre dal cosiddetto fuoco amico degli americani, i quali risalendo la penisola e per stanare le truppe naziste che erano accambate nel Cambaglione, periferia ovest della città, l'attuale parco regionale dell'Olivo, appunto cannoneggiarono Venafro preannunciando che avrebbero cannoneggiata la città. Molti civili riuscirono a fuggire, riuscirono a scambare, raggiunsero i comuni vicini, molti per esempio andarono a Conca Casale per allontanarsi decisamente dai cannoneggiamenti, ma tanti altri non riuscirono a farlo. Durò parecchio tempo questo cannoneggiamento? Praticamente un mese intero ci furono sei, sette cannoneggiamenti nel corso di ottobre 43 e purtroppo in questi cannoneggiamenti si ebbero decine e decine di caduti. Pensi che un gruppo di persone, ambos essi e di età diversa, due fratelli di età minore, si erano rifugiati in una grotta di epoca romana in località Chiaione. Per lasciar capire a chi ci sta ascoltando, siamo nei pressi della cattedrale di Venafro. Purtroppo questa grotta fu centrata dalle cannonate degli americani. In 17 trovarono la morte, purtroppo, in quella grotta. Altri venafrani, sempre civili, furono rinvenuti in altre zone della città. Per cui, insomma, c'è quest'altra bruttissima e trista pagina della storia di Venafro che è opportuno conoscere e far conoscere. Ma c'erano dei parenti? Chi erano queste persone? Sì, c'erano dei miei parenti, una certa vericchia Giuseppina, ma poi anche nel mese di novembre si sono avuti altri cannoneggiamenti. Infatti mia madre morì in uno di questi bombardamenti per una scheggia che la colpì il 27 novembre del 44. Quindi, come ha detto Donino, si concentrano più a ottobre, ma anche negli altri mesi successivi. In effetti, volendo fare una piccola ricostruzione storica, che cosa è successo? È successo che si è data maggiore importanza al bombardamento del 15 marzo, giustamente perché furono 140 vittime. Però questo episodio va inserito nella fase storica del bombardamento relativo a Monte Cassino. Cioè gli americani alleati avevano l'obiettivo di bombardare Monte Cassino, cosa che poi è purtroppo accaduto. Però ci fu un errore dalla parte degli americani, perché i piloti non lessero bene le mappe e confusero venavano con Monte Cassino. Per cui sganciarono il 15 marzo queste bombe che procurarono tutte queste vittime e danni al paese. Questo fatto, ovviamente, ha concentrato l'attenzione degli storici più su questo episodio, giustamente, e gli altri morti civili, che sono a decine, 18, 20, altri così, che non riescono neppure poi a valutare nella loro portata, sono stati portati un pochino poi, non trascurati, ma dimenticati, almeno dalla voce ufficiale. I parenti, ovviamente, se ne ricordavano, ma l'amministrazione non ha dato quell'insatto. Il livello istituzionale? No. Ed è questo il merito che ha avuto Tonino, di sogna dagli atto, che ha puntato il riflettore su questo episodio e ha promosso un'iniziativa dell'anno scorso, dell'ottobre l'anno scorso, con una cerimonia, una messa e una manifestazione in onore, a memoria di questi morti. Per cui, noi perché siamo qui? Per, appunto, ribadire l'opportunità che l'amministrazione, come ha fatto quest'anno, mi pare, perché l'ha accomunato poi i morti, dopo l'iniziativa che c'è stata, faccia qualcosa di più visibile a memoria di queste vittime, ricordandole, ma non tanto per i morti e per i parenti solamente, ma anche per la gioventù, per i giovani, che oggi è una fase in cui i simboli, i valori vanno sempre più cadendo, deteriorandosi. È giusto e bene che ci sia la possibilità di ricordare il passato, di ricordare la guerra e gli orrori della guerra. In effetti questo è tutto quello che si chiede, perché poi, in altra parte, la stessa scuola non è che questi episodi ricorda, perché la seconda guerra mondiale è la metà moderna, meno un po' nella scuola ovviamente trascurata. Si parla più degli ettiti e dei babilonesi, a poco dei tedeschi, degli orrori della guerra, dei bombardamenti che ci sono stati avvenuti come a Esernia e in tutta la Valle del Volturno. Insomma, non conosciamo la nostra storia ed è grave questo. Ma è grave anche, noi parliamo sempre, bisogna ricordare per evitare che certe sciagure si ripetono, però l'umanità non impara mai, perché proprio in questi giorni vediamo quello che sta succedendo in Siria e cioè tutto il mondo è fermo, là c'è una mattanza quotidiana di gente. Eh sì, bisogna secondo me prendere coscienza di questo e dare appunto come stimolo questi episodi, ricordarli. Ecco perché è un merito per chi ha voluto questa iniziativa affinché si rifletta di più sul male della guerra. Comunque i venefrani per Venafro, una tua creatura, si sta adoperando parecchio per questa città. Certamente, insomma stiamo cercando di dare una mano a, diciamo, dare maggior interesse alla vita sociale venafrana che, diciamo, a parte alcune realtà positive, per il resto soffre di un sostanziale rallentamento, di un sostanziale appiattimento. Vuoi anche i tempi, vuoi anche, diciamo, le nuove abitudini dell'uomo, ma Venafro ha perso lo smalto che aveva nei decenni trascorsi. Per cui alcune iniziative, diciamo, dei venafrani per Venafro tendono proprio a rilanciare la città. Noi come movimento assolutamente autonomo, apolitico, apartitico, eccetera, è un movimento popolare nato, diciamo, per istintivo, spirito associativo di un gruppo di venafrani. Noi amiamo dire che siamo un movimento, diciamo, propositivo, che vuole agire in chiave positiva, cioè dire vogliamo cercare di rilanciare quelli che sono, diciamo, gli interessi e le bellezze di Venafro. Ci siamo interessati, ci siamo interessati assieme ai parenti della, come dire, della mancata ufficializzazione dei caduti dell'ottobre 43 per dare, come diceva il professore Verrecchio, per dare alla società contemporanea distratta sotto tanti aspetti, distante, da certi valori, per dare l'esatta portata della dimensione del sacrificio di Venafro. E non solo di Venafro, anche dei comuni, anche di persone, dei comuni limitrofi che nella circostanza trovarono purtroppo la morte a Venafro. Io mi piace sottolineare, chiedo scusa se leggo, i coniugi di Carpinone che nell'ottobre 43 erano a Venafro per lavoro, casualmente, e purtroppo trovarono anche loro la morte. Ecco, è bene ricordare i loro nomi. La signora si chiamava Bambina Policella, il marito Giovanni Colangelo. Queste sono due, diciamo così, due vittime, due vittime della immane tragedia della Seconda Guerra Mondiale consumata a Venafro. Ma oltre i 140, questi altri, a quanti sono? Questi sono l'elenco che io sono permesso di portare, perché ovviamente sfuggono i nomi, sono le vittime del bombardamento dell'ottobre 43. I due già citati erano di Carpinone, marito e moglie di Carpinone. I Venafrani che adesso, se lei permette, elenco, sono Fernando Ottaviano, Nicandro e Mario Vaccone, Michelina Testa, Antonio Giannini, Giacinta Leva, Giuseppina Verrecchia, Maria Carmela Iannacone, Emilia Tagliaferro, due fratelli in tenerissima età, Paolo e Lucio Andreozzi, Luigia Conte, Crescenzo Ricchiuti, Giacomina Natale, Clara Natale e Filomena Natale. Il corpo di questa sventurata fu rinvenuto sei mesi dopo, scheletrito, sotto le macerie. Poi c'è il genere, pure, mia madre che poi, mesi dopo, pure, e insieme ad altri, non sappiamo bene, andrebbe a farsi. Sì, molte donne, sì. Gente che non riuscì a mettersi in salvo, perché gli americani avvertirono che avrebbero cannoneggiato, avvertirono che avrebbero cannoneggiato, perché, ripeto, loro, era la loro intenzione stanare, diciamo così, i tedeschi che stavano accampati nell'attuale parco regionale dell'Ulivo. Molti riuscirono a mettersi in salvo, ma tanti non ce la fecero, tra cui questi che ho appena citato. Speriamo in bene, speriamo veramente che questa tragedia non... Guardiamo un po' la realtà di oggi. Un pensionato politico, da parecchio tempo, come vede quello che sta succedendo in Regione? Vabbè, sarebbe un discorso abbastanza... Vabbè, adesso sono ore abbastanza delicate. Come si vede? Si vede che non c'è chiarezza, c'è molta confusione. Però la chiarezza l'hanno avuta gli elettori nel dare il loro voto in tutto il Sud. Però poi alla fine, mentre prima i partiti riuscivano a incanalare la volontà popolare in delle proposte, adesso il rischio qual è? A parte i 5 Stelle che hanno la loro omogeneità, si può discutere, però hanno una loro fisionomia, diciamo. Per il resto si vede poi dalla difficoltà che si hanno a stare insieme, sia a sinistra che a destra, con le divisioni che ci sono. Quindi, in questo, dico, i partiti tradizionali hanno perso un po' la bussola e non riescono a trovare la maniera per stare insieme e per avere degli obiettivi comuni, facendo quindi il gioco di chi invece dall'altra parte, cavalcando un po' la tigre della contestazione, della protesta, deve riuscire di più a farsi valere. Tutto sta a vedere poi se, sia a livello nazionale che a livello regionale, questi programmi sono attuabili. Perché il vero problema è questo, parlare, programmare, promettere e farci. Io nonno diceva che parlare è un'arte leggera. Sì, perché poi bisogna dare seguito a tutto quello che si dice. E la cosa non mi pare semplice, perché i problemi ci sono. Quindi credo che bisognerebbe avere molto i piedi a terra, molta prudenza, rispetto degli altri, cosa che sta avvenendo meno, perché quello che io noto è che non c'è quella disponibilità anche di rispettare gli avversari, di parlare con loro, di discutere, di vedere insieme anche le cose possibili. Ognuno fa la sua strada, ognuno pensa di essere il migliore e più bravo di tutti, degli altri. E questo non depore bene, ci vorrebbe maggiore umistà nella politica. Secondo te, Tonino, qual è il quadro? Concordo con il professore Verrecchia, concordo in linea di massima certamente. Mi permetto di aggiungere, mancano i punti di riferimento. Si sono smarriti certi valori. Ognuno ritiene di essere depositario di verità assolute e ognuno si avvia per strade che non si sa dove portano, non si sa dove portano. Manca quella collegialità, accennava il professore Verrecchia, concordo pienamente. Prima si parlava, ci si incontrava, ci si scontrava, ma sempre in maniera assolutamente civile e democratica. Oggi no, oggi io penso al piccolo, al Venafro, al modesto centro di Venafro. Corso Campano, deve sapere, quando era giovane il professore Verrecchia e quando era giovane chi sta parlando, Corso Campano, la strada principale di Venafro, era il punto di incontro di tutti. E là ci si incontrava, si parlava, si discuteva, si realizzava, si realizzava in maniera concreta. Oggi è un deserto, oggi è un deserto. Ognuno sta chiuso in se stesso e da poco sul piano sociale. Ma se vogliamo la politica ha contribuito a distruggere questi modi di stare insieme, perché prima con tutta la critica si può fare alla politica di un tempo, però i partiti con le loro anche correnti rappresentavano un momento di aggregazione, con i circoli, con le sezioni, in modo di stare insieme, di vedersi, di discutere e di socializzare. Oggi invece questo neppure accade, perché in effetti il modo di stare insieme è un po' aleatorio. Non si sa bene dove si vedono le persone, dove si incontrano, dove discutono, dove programmano. Le nuove tecnologie adesso. Sicuramente, poi è chiaro che internet e web hanno fatto il resto, però sta avvenendo qualcosa che è troppo sconvolgente. Si dice che i politici di ieri avevano un progetto per questa regione, cioè guardavano molto avanti. Adesso mi sembra che si vive più alla giornata. C'è tante cose che sono state fatte. Erano pure tempi diversi. Bisogna anche dire che allora le possibilità e i mezzi erano maggiori. Cioè si poteva programmare meglio perché le risorse c'erano. Oggi invece bisogna fare i conti. Oggi c'è il partito che dice no a prescindere a qualsiasi cosa si fa, è fortissimo. E il politico guarda il voto che perde se va contro questi comitati e comunque le cose non si fanno. Noi abbiamo fatto un convegno qua a Disernia e quindi si parlava delle opportunità che si sono perse nel Molise e c'era un oratore che stava dicendo che una delle opportunità che si era persa era l'autostrada. Non finì di dire autostrada quando uno dal pubblico disse, uno degli intervenuti, che aveva fatto una battaglia per vincere, vinta per non far fare l'autostrada. Allora qua è molto difficile andare avanti. In altre regioni, per dire per l'energia alternativa, hanno sviluppato. Cioè è stato un momento di sviluppo perché l'energia ha portato anche lavoro, ha portato soldi. Qua stanno i comitati per noi che non si fa niente. Qua a Disernia adesso il traffico, gente che viene da Castel di Sangro, sabato Sirla, domenica, è strozzato perché la famosa, il lotto zero, stanno facendo storia per non farlo fare. Ma questo è il problema. Oggi prevale più dire no, dire il contrario del quelli che dicono gli altri. Manca, cioè... Ma manca il politico che c'è una responsabilità. Eh sì, perciò la politica è debole. Prima i leader, con tutti i loro limiti però, rappresentavano il momento di sintesi. Di sintesi, quando si doveva decidere sulla Fiat a Termoli, oppure delle grandi questioni, ci si vedeva, i leader, 3-4 leader, si vedevano e decidevano. C'era il momento di sintesi e quindi di decisione. Oggi purtroppo questo non avviene. Sarà un bene, sarà un male, non lo so, perché poi c'è anche il rovescio della medaglia, che si vuole più democrazia, più popolo, più... Però poi alla fine le decisioni si disperdono, prevale soprattutto lo sport di dire no alle varie iniziative, più a distruggere che a costruire. Abbiamo assistito e assistiamo ancora oggi alle difficoltà che c'è nel portare avanti un qualsiasi programma. Tutto va male, tutto si discute, si divide. Tonin, le regionali ce la faranno ancora ai 5 Stelle? Ho letto sondaggi negli ultimi giorni, danno 5 Stelle ad un 36-37%. Certamente è l'onda del momento. Io dico il voto di protesta, anche se qualcuno non vuole sentire parlare di voto di protesta. Sarà anche vero, c'è anche tanta convinzione nel voto, eccetera, ma c'è anche tanta protesta. Protesta, mi permetto di dire, in buona parte motivata, giustificata dalla realtà delle cose. la gente ha ritenuto di voltare, di cambiare e ha cambiato in maniera netta, in maniera netta, drastica. E il Molise non è fuggito a questo. Il messaggio era quello a molti di farsi da parte. È stato recepito? No, non è stato recepito. Si pensava ancora di poter, se permette, uso un'espressione un po' dura, di vivere di rendita. Le rendite non danno più, non danno più. La gente vota con assoluta convinzione e coscienza e determinazione, alla luce, ripeto, dei problemi che quotidianamente vive e affronta. Ma cosa servirebbe a questo Molise? Una parola, non è una cosa semplice da dire, ma a mio avviso anzitutto è una classe politica più disposta a collaborare, perché le divisioni non portano da nessuna parte. Purtroppo qui si è troppo frandomato il quadro politico. Poi vi serve veramente fare una programmazione partendo dalla realtà, dire cose fattibili senza andarsene per i grossi sogni. Una politica più semplice, più migliore di quello che trovo, che c'è una arroganza che non è supportata dalla preparazione e quindi si improvvisa. Quello che è accaduto poi alle scorse politiche doveva servire veramente da monito, da segnale di allarme per cambiare. Quello che non hanno capito i partiti tradizionali, come diceva Tonino, che la lezione non sempre che l'abbiano assorbita, perché si trattava a questo punto di essere più disponibile a qualche passo indietro, a rinnovare veramente e realmente i partiti e a discutere, a confrontarsi con i Cinque Stelle sul piano appunto della fattibilità. Perché da una parte c'è molto veletarismo. Dall'altra parte c'è un pragmatismo che ti porta soltanto a vedere come ancora sopravvivere, come coltivare il proprio orticello, pensare a salvare la propria poltrona. Manca cioè un obiettivo comune e quindi non prevedo cose buone per la nostra regione. Tonino, da dove bisognerebbe iniziare? Sia in Molise che in Italia. E anche a Venafro. A Venafro, se mi permetti, noi fra due mesi, la data ancora non la conosciamo, dobbiamo andare a votare per la terza volta in questo inizio d'anno e votare per le amministrative, per rinnovare il quadro municipale. Ad oggi delle amministrative di Venafro niente e nessuno parla. Niente e nessuno parla. Nicandro Cotuglio vorrebbe ricandidarsi. Sì, ogni tanto qualche giornale, così evidentemente per vendere qualche copia o qualche telemittente privata per aumentare il proprio ascolto, lancia qualche nome. Ma diciamo più per fare cassa, ripeto, ma non è che ci siano intese, diciamo collegamenti, discorsi per tutto quello che dicevamo prima. Sì, Nicandro Cotuglio, il sindaco delle precedenti amministrazioni, parrebbe intenzionato a tornare nel lagone politico cittadino. Evidentemente l'amministrazione uscente, guidata da Sorbo, sarà, penso, della partita. Però il dramma è che a meno di due mesi, penso, più o meno, a due mesi dalle elezioni, non c'è alcun punto di riferimento certo, non c'è un incontro, non c'è un dibattito, non c'è un confronto. E questo, se mi permette, non è affatto positivo. In Regione? In Regione, speriamo che si riesca a quadrare qualcosa. Per tutto quello che è appena accaduto, a cui accennava il professore Verrecchia, per la situazione, diciamo così, di stallo in atto, non è facile, non è una bella situazione. Si andrà ad un confronto serrato e auguriamoci che l'elettore sappia scegliere bene. Ok, io vi ringrazio. Grazie a Danilo Scaringi e a Antonio Masi per le riprese. A Scaringi grazie, come sempre, il doppio perché augurato anche il montaggio del programma. Grazie alla sede di Campobasso per le messe in onda. Grazie a tutti voi che da casa ci avete seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana. Grazie a tutti.